Perché oggettivamente una signora di una certa venusta e questo è Kobe Bryant in palleggio che va via lungo la faccia laterale, giocava anche a calcio, raddoppio e qui Davide dovrebbe scaricare, dovrebbe scaricare ma non scarica però guardate lo stile di tiro, lo stile di tiro è imbarazzante nel senso più attrezzativo. Questo numero 19 rosso racconterà i nipotini di aver segnato un canestro a Kobe Bryant però poi Kobe ha i rossi nonostante qualche violazione di passi ne ha segnati più d'uno. Diciamo che le immagini sono davvero molto affascinanti e il legame con l'Italia Davide è ancora di più. Sì davvero affascinante e secondo me è una cosa che lo accompagnerà per tutta la sua carriera perché quando arriverà poi negli Stati Uniti in qualche modo sarà di...